Dall'accesso alle fatture fino all'aggiornamento del tuo attuale piano, abbiamo reso la gestione del tuo account online più semplice possibile. Dopo aver fatto login, puoi accedere alle informazioni sul tuo account cliccando sull'icona del tuo profilo. Questa icona è accessibile da tutte le pagine principali di Getty Images. Selezionando Panoramica, puoi vedere i dettagli relativi al tuo attuale piano e visualizzare le fatture. Puoi vedere i dettagli del tuo account e quando scadrà. Il menu dell'account presente a sinistra ha diverse altre aree di interesse, in particolare la sezione Download, che include tutti i contenuti che hai scaricato. Puoi modificare l'intervallo di date per ottenere un report di download che vuoi vedere fino ai 90 giorni precedenti. Una funzione utile di questa pagina è la possibilità di scaricare un documento dettagliato o un CSV con la tua cronologia. Molti utenti trovano questo documento utile per tracciare gli utilizzi. Il tuo contratto Premium Access non ha limitazioni relativamente al numero di utenti che puoi avere. Se vuoi aggiungere, rimuovere o modificare un utente in qualsiasi momento, ti basta contattarci e noi effettueremo il cambiamento per te. Inoltre, per richiedere un upgrade e estendere i tuoi accessi o per aumentare i download a tua disposizione, chiama il tuo team locale di Getty Images. Inoltre, per richiedere i tuoi accessi o per aumentare i tuoi accessi o per aumentare i tuoi accessi. Grazie a tutti!